Su questa opera sono entusiasta, spendo tanto tempo per questa operazione perché credo che ne valga la pena. Hai detto giusto che è il più importante del mondo, non è un museo al campione che ce ne sono tanti, questo è un museo al ciclismo, quindi lì ci saranno le grandi geste della storia del ciclismo dall'inizio e anche altre geste minore di atleti che non sono stati sfortunati oppure non sono riusciti a fare di professionismo. Quindi questa storia che noi racconteremo, devo dare un grazie alla Gazzetta dello Sport che ci ha messo a disposizione il suo archivio e capite che l'archivio della Gazzetta è quello che ci dà forza perché ci saranno dei cimeli, chiamiamoli così, molto importanti perché il ciclismo, io ho sempre detto finché c'è vita ci sarà ciclismo. Questo Giro d'Italia dimostra che il ciclismo è effettivamente, la gente vuole bene al ciclismo, la gente va nelle strade, io a Livino trovo la gente che veniva dalla Romagna, dalla Toscana, hanno fatto chilometri, ore di macchina per vedere sfrecciare il suo atleto o gli altri atleti e poi non succede mai niente. Il ciclismo è puro, tutto quello che ha attraversato il ciclismo, giustamente e ingiustamente, perché credo che tutto lo sport deve darsi una regolata, perché nello sport deve vincere chi è più bravo e quindi la chimica va sicuramente combattuta, però lo deve combattere tutto lo sport italiano, non solo questo accanimento, quello che è successo in quest'anagilità, fortunatamente è successo, non ha avuto esito negativo, però sono cose che non fanno bene perché c'è gli avversari, chiamiamoli così, che sono lì a aspettare perché pensano che il ciclismo voglia dire altre cose, no, il ciclismo vuol dire fatica e chi non è adatto alla fatica deve non fare ciclista, deve fare altre cose e quindi questo direi che è la risposta al mondo che voleva rivedere ancora questo ciclismo in ausia.